Lui va di notte per cercare di capire come non sono sicuri i mezzi. Vi leggo un'agenzia del 3 ottobre. Salgono a 220 persone quelle impiegate da Trenord per controllare i convogli e le stazioni. Un finanziamento di Regione Lombardia per la sicurezza di chi viaggia sui mezzi pubblici. Oltre a fare il giro di sera potrebbe proprio anche stanziare delle risorse per la sicurezza sui mezzi. Vivendo la lezione di Ammaroni, caro esposito.